Vi faccio ascoltare una cosa straordinaria. All'interno di questa gabbietta di plastica c'è una regina giovane che ha sciamato da poco, io l'ho recuperata da una famiglia un po' troppo debole e quindi ho dovuto riunire queste api e rimetterle nell'arnia originale da dove sono uscite. A questo punto però ho approfittato per catturare la regina e 4-5 ancelle in questa retina, in questa piccola gabbietta e domani la inserirò con una tecnica speciale all'interno di un'arnia dove purtroppo le api sono rimaste orfani. Però questa è una splendida occasione che voglio condividere con voi per farvi ascoltare il canto dell'ape regina. Spero che lo stiate ascoltando. Ovviamente questa è una regina che tre ore fa aveva sciamato. Spero che lo stiate ascoltando.